Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi ti propongo una sequenza breve dedicata in particolare al rinforzo delle braccia. Cercheremo di lavorare la muscolatura delle braccia senza sovraccaricare ovviamente la parte del trapezio superiore e della cervicale. Proprio perché lavorare le braccia in modo così specifico tende a creare delle tensioni in questa parte faremo una sequenza di allungo della muscolatura lavorata alla fine della nostra sequenza e un piccolo e un paio di minuti di automassaggio proprio per cercare di sciogliere le tensioni se ne senti durante questa sequenza. Ti invito a cercare una posizione seduta comoda per cui potrebbe essere necessario tenere a portata uno spessore da mettere sotto al bacino per migliorare la posizione delle tue anche, anche un tappetino arrotolato può andare bene. Prima di iniziare ad allenarci voglio ricordarti che nella descrizione di questo video trovi il link a Nuvola Pilates, la mia scuola online, trovi video di Pilates tradizionale, diffusioni con la danza e con lo yoga, puoi fare una settimana gratuita di prova senza impegno e puoi decidere di iscriverti al mensile o alle opzioni semestrale e annuale. Trovi una sezione dedicata invece ai corsi base e intermedio avanzato che affrontano il repertorio tradizionale di Pilates Matwork. Io ti aspetto su Nuvola e intanto direi che siamo pronti per partire quindi srotola il tuo tappetino e iniziamo ad allenarci insieme. Quindi trova la tua posizione comoda, cerca di sentire gli ischi bene appoggiati, la schiena dritta, la cervicale lunga, quindi andiamo a cercare quell'allineamento testa, spalle anche. Porta le mani sulle tue ginocchia, sulle tue gambe e andiamo a ruotare delicatamente le spalle indietro. Cerca magari di non andare al massimo del tuo range, stai scaldando questa parte, quindi cerca di rilassare, di sciogliere un pochino le tensioni da questa zona. Respira liberamente, permette alle mani di scivolare sulle tue ginocchia, sulle tue gambe mentre fai la rotazione. Ora proviamo ad alternare, sempre andando indietro nella nostra rotazione, però alterniamo le spalle. Mentre una spalla va indietro, l'altra viene avanti, quindi c'è una piccola torsione nel tuo busto, anche qui senza esagerare, nella sollevare le tue spalle. Ne facciamo ancora quattro, ancora tre, ancora due, ancora uno. Ritorna bene al centro. Ora da qui comincia a portare le tue mani come se avessi due vassoi, schiena bene dritta, i gomi ti tirati leggermente indietro, vicino al punto vita, vai ad allungare in avanti, apri le braccia, richiudi e ritorna. Respira liberamente, apri, chiudi. Apri fino a dove senti che il busto rimane stabile, il tuo bacino è stabile, quindi che non ci sono compensazioni nel resto del tuo corpo. Senti il lavoro della muscolatura intorno alle tue scapole, che ti permette di aprire bene le tue braccia. Ancora allunga, apri, chiudi, ritorna. Ne facciamo ancora due, allunga, apri, chiudi e ritorna. Ancora allunga, apri, fermati qui, scarica bene le spalle. Ora tieni i gomiti lunghi e andiamo a fare delle circonduzioni con le mani, quindi cerchiamo di mobilizzare i nostri polsi. Potresti fare riferimento un po' alle mani del plamenco, quindi cerchiamo di aprire delicatamente le dita in modo da ruotare anche con una mobilità nelle dita delle tue mani. Quindi tieni le spalle lontane dalle orecchie, la cervicale lunga. Qui stiamo un po' lavorando sulla muscolatura proprio degli avambracci. Cambia direzione, quindi andiamo anche dall'altra parte e qui puoi ruotare in modo che sia un pochino il mignolo a partire nel movimento di rotazione in avanti. Scarica bene le tue spalle, quindi c'è un'isometria a livello del deltoide, ad esempio, e invece una mobilizzazione a livello dei polsi. Ancora per quattro, ancora tre, ancora due, ancora uno e sciogli un secondo, rilassa un secondo, riporta le braccia in questa posizione, palmi che guardano verso il basso, scarica bene le tue spalle, stabilizza le scapole. Andiamo a fare delle piccole circondazioni per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Cambia direzione, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Di nuovo cambia ogni otto movimenti, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Cambia, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E l'ultimo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Allunga, scarica un secondo. Quindi ogni volta che senti accumularsi un pochino di tensione puoi ritornare con le mani sulle ginocchia e ruotare le spalle indietro. Ripartiamo con le braccia allungate, sempre con i palmi rivolti verso il basso. Ora unisci le tue mani, spingile una contro l'altra, quindi cominciamo ad attivare un pochino anche i nostri spettorali, i bicipiti. Apri le tue braccia, fuori l'aria mentre chiudi, inspira, riapri, fuori l'aria, chiudi, tre. Quindi le dita premono di una mano sull'altra. Ancora fuori l'aria, chiudi, inspira, riapri. Ne facciamo ancora quattro e ritorna. Ancora tre, respira. Ancora gli ultimi due e ritorna ancora. Uno, riapri. Ora chiudi, gira i palmi delle mani uno verso l'altro, unisci se possibile non solo i palmi ma anche fino ai gomiti e andiamo a fare dei piccoli molleggi verso l'alto. Scarica le spalle, i gomiti vanno su, piccoli molleggi a salire. Quindi intensifichiamo leggermente il carico sulla parte anteriore, pettorali, bicipiti, sali, sali ancora per dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Torna bene con i gomiti in linea con le tue spalle, scarica le spalle, mani che guardano verso di te e andiamo ad aprire con i gomiti piegati. Quindi angoli di 90 gradi e qui pensa veramente che sono le scapole che mobilizzandosi tirano le braccia in apertura, quindi i gomiti si aprono perché le scapole lavorano. Avanti ancora per cinque e ritorna, ancora quattro e ritorna, avanti per tre, ancora gli ultimi due, ancora uno, ritorna e rilassa. Anche qui puoi ruotare le spalle. Andiamo a lavorare un pochino sui tricipiti, quindi le tue braccia si spostano indietro, le portiamo se possibile a filo del tappetino, scarica bene le spalle, solleva leggermente, andiamo a fare dei piccoli molleggi verso l'alto. Quindi qui il movimento parte sempre dalle tue spalle, cervicale lunga, piccolo molleggio, respira e continua a respirare, un po' come se stessi facendo 100, quindi se stessi facendo quelle piccole pulsazioni, però qui l'obiettivo è quello di andare a lavorare veramente sulla parte posteriore delle tue braccia. E ancora per dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, rilassa un secondo, quindi riporta le mani sulle ginocchia, ruota le spalle indietro e proviamo a fare un'ultima piccola sequenza in cui le braccia, le mani vanno a incrociare tra di loro, quindi riallunga, solleva leggermente e ora questa volta le mani vogliono andare una vicino all'altra. Nell'incrocio è come se volessi portare la destra sopra la sinistra e poi la sinistra sopra la destra, sempre partendo dal movimento delle tue spalle, sempre tenendo le mani leggermente staccate dal tappetino se possibile. Se ti è più comodo siediti su una sedia per creare un pochino più di spazio per le tue mani. Ancora per dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e anche qui sciogli la posizione e rilassa. Andiamo a ruotare qualche secondo le spalle indietro e cominciamo la nostra sequenza di allunghi. Comincia col deltoide destro, quindi allunga in avanti, scarica bene la tua spalla, piega il gomito, porta il braccio vicino al tuo busto, quindi verso lo sterno, tieni la spalla, scarica. Andiamo a ruotare per qualche secondo la testa, quindi cerchiamo di liberare un pochino delle tensioni la zona cervicale, sempre allungando quel braccio destro e poi ci fermati al centro, porta il braccio destro verso l'alto, piega il gomito, vedi se è possibile agganciare il gomito con la mano opposta, tira il gomito. L'idea è che la tua mano destra possa toccare la tua colonna vertebrale, quindi il gomito va il più possibile dietro alla tua testa, la testa rimane bene dritta, quindi senti l'allungo sul tuo tricipite. Qui se vuoi puoi aumentare un pochino l'allungo flettendo la tua colonna verso la tua sinistra, quindi scendi leggermente lateralmente, ritorna al centro, facciamo ancora due di questi allunghi laterali, fuori l'aria scendi, inspira, ritorna, facciamone ancora uno qui, fuori l'aria scendi, ritorna e sciogli la posizione, quindi puoi shakerare un pochino il tuo braccio destro, allunga in avanti il sinistro, scarica bene la spalla, tira il gomito verso il petto e vai ad allungare anche qui, tirare delicatamente il gomito verso di te. Anche qui possiamo ruotare la testa per qualche secondo, sempre tenendo la spalla sinistra bassa e poi fermati al centro, porta il braccio sinistro verso l'alto, piega il gomito, vai a portare quel gomito il più possibile dietro la testa, l'idea è proprio che la mano vada a tuo contatto con la colonna e poi tira verso il basso, puoi fermarti qui oppure aumentare andando leggermente in quella flessione laterale fuori l'aria mentre tiri, inspira, ritorna al centro, fuori l'aria, tira, due, inspira, ritorna, avanti ancora uno, ritorna e anche qui sciogli la posizione delle tue braccia, anche qui puoi shakerare un secondo il tuo braccio sinistro. Ora andiamo a mettere la mano destra sull'orecchio sinistro e andiamo a tirare delicatamente verso il basso, accertati che la spalla sinistra sia bassa, quindi puoi sempre spingere via il tappetino e poi risali, ruota lo sguardo verso il tuo fianco destro, scendi di nuovo torna verso il centro, cambiamo direzione, cambiamo lato, andiamo a portare prima lateralmente la testa, spingi giù quella spalla destra, spingi giù quella spalla destra e poi vai a ruotare verso il tuo fianco con lo sguardo, scarica bene la tua spalla, ritorna di nuovo al centro, metti le mani dietro la nuca, inspira, apri bene i gomiti e ora mentre il busto rimane bene dritto, la tua testa scende, mento allo sterno, porta i gomiti a chiudersi tra di loro, inspira, ritorna in apertura, apri bene i gomiti e di nuovo chiudi, ancora uno, inspira, apri ed espira, chiudi e poi ritorna in apertura, scendi e andiamo proprio a fare quel piccolo massaggio sui nostri trapezi quindi la tua mano destra è quella che fa il massaggio verso sinistra e la mano sinistra può sostenere il tuo gomito e andiamo a partire dalla spalla, quindi facciamo dei movimenti circolari a massaggiare proprio il nostro trapezo superiore quindi qui massaggiamo piano piano verso il collo, verso la base del collo ricordati che quando sei indietro puoi scendere verso la tua scapola quindi puoi massaggiare un pochino anche lungo il bordo, il margine interno della tua scapola e poi piano piano vai a salire verso il collo sempre con piccoli movimenti dei polpastrelli, possono essere circolari puoi salire fino alla zona dell'occipite e poi magari tornare dove senti che ci sono più nodi dove senti che c'è bisogno di massaggiare spesso ci sono dei punti dove sentiamo che la muscolatura è un pochino più annudata basta proprio un minuto e poi andiamo dalla parte opposta quindi la mano sinistra va a massaggiare il lato destro anche qui comincia ad attivare questo movimento circolare oppure è come se volessi afferrare, prendere un po', pinzare la tua pelle la muscolatura, anche questo ha un effetto molto benefico e anche qui puoi scendere verso la scapola un po' supportando appunto la mano sinistra con il braccio destro e poi puoi sempre salire lungo il collo lungo quel cordone di fianco alla colonna vertebrale fino alla zona occipitale e poi scendere di nuovo recuperare magari un punto che è un pochino più annudato e poi prenderti qualche secondo durante la giornata per fare solo questo massaggio quando senti che ci sono dei nodi un pochino di tensione sulla zona del collo e delle spalle ci fermiamo bene nella nostra posizione di allungo inspira, porta le braccia su unisci i palmi delle mani sopra la testa tira le mani davanti al petto e ci siamo ottimo lavoro grazie mille per aver fatto questo allenamento insieme a me spero ti sia piaciuto fammi sapere cosa ne pensi nei commenti lascia un like se il video ti è piaciuto e se non l'hai ancora fatto supporta il canale iscrivendoti al canale è totalmente gratuito e attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutte le prossime novità io ti aspetto al prossimo video intanto ti mando un grande abbraccio a presto